Ciao e benvenuti in un nuovo video, che poi sarebbe il primo video che registro per metterlo sul mio canale. Un po' di informazioni prima di iniziare. Se volete potete seguirmi su Instagram, questo è il mio Instagram, sul mio profilo condivido libri, fumetti, serie tv, insomma tutto quello che mi piace. Vi do dei consigli di lettura e naturalmente ne prendo da voi. Questo video spero che sia il primo di una lunga serie, visto che vorrei condividere con voi le mie letture. Tutto quello che leggo in un mese, o almeno una selezione dei fumetti che leggo, e quasi sicuramente tutti i libri che leggo in un mese, potete anche seguire me e Fiore, mia moglie, sul canale della Lega dei lettori straordinari, che è il nostro club del libro. Ogni mese leggiamo un libro e un fumetto tutti insieme. Siamo un migliaio di persone, quindi è davvero molto divertente seguire tutte le vostre reazioni alle letture che vi facciamo fare. E poi anche discutere di amenità varie, tipo cosa mangiamo per cena e quanto è carino il nostro gatto e il nostro cane. Insomma, un luogo di aggregazione per lettori di fumetti, mangiatori di schifezze e coccolatori di cuccioli. Un luogo perfetto, insomma. Però probabilmente, se siete arrivati qua cercando Wrap Up gennaio, non siete qui per sentirmi sproloquiare di cose a caso, ma volete vedere i libri. Quindi iniziamo a far entrare i libri. Questo mese ho letto quattro romanzi e svariati fumetti, però ho deciso di fare conto pari e farvi vedere quattro romanzi che ho letto e quattro dei migliori fumetti che ho letto. Se invece volete seguire momento per momento, passo per passo, tutte le mie letture, vi lascio qua sotto, nell'info box, anche il mio link a Goodreads. È un profilo autore perché, per chi non lo sapesse, faccio lo sceneggiatore e lo scrittore. Vi ricorderete di me per cose come La peggiore stagione di Orfani, Svariati i numeri di Dylan Dogg, una splendida graphic novel per Bao, il mio primo romanzo scritto con mia moglie, il primo fumetto che ho scritto con mia moglie, mia moglie! Comunque avevo promesso di smetterla con queste idiozie e farvi vedere i libri. Quindi, il primo libro che ho letto questo mese è Nostra Signora delle Tenebre di Fritz Lieber. Per chi non conoscesse Fritz Lieber, dovete assolutamente correre ai ripari. Fritz Lieber ha inventato letteralmente lo Sword and Sorcery, una branca del fantasy, con i suoi due personaggi, Fafar del Grey Mauser. Questo romanzo, però, non ha niente a che fare con il fantasy o la fantascienza, altro genere per cui è molto famoso Lieber. Non contento di aver vinto una catarba di Nebula e Hugo Awards, grazie proprio a Fafar del Grey Mauser, i suoi due eroi shakesperiani. Non a caso, visto che Lieber era figlio proprio di due attori shakesperiani, Lieber ha anche completamente rivoluzionato l'horror, ripeto, forse possiamo definirlo urbano. Nei suoi romanzi di genere, infatti, la città si trasfigura, si trasforma in una bestia orribile acquattata nel buio, pronta a inglobare e distruggere gli esseri umani che vivono al suo interno. In questo romanzo del 1977, Nostra Signora delle Tenebre, il protagonista di Fritz Lieber, uno scrittore che scrive romanzetti tratti da una serie horror televisiva, si è trasferito e vive a San Francisco dopo essere rimasto vedovo e aver superato i suoi problemi con l'alcolismo. L'orrore entra nella vita di Franz Westen proprio mentre è nel suo appartamento a San Francisco e con un binocolo inizia a guardare la collina di fronte a lui, Corona Heights, e assiste a una scena inquietante. Una figura imbacuccata in un logoro mantello si agita e si muove come se stesse partecipando a un impio rituale. Franz decide di andare a scoprire esattamente cosa ha visto e una volta sulla collina, quasi per gioco, prova a guardare dentro le finestre di casa sua e a quel punto quello che vede gli gela il sangue nelle vene perché la figura che prima era a Corona Heights ora è nel suo appartamento. È l'inizio di un affascinantissimo horror urbano che ha a che fare proprio con la città, con la costruzione delle megalopoli e della disumanità di tanto cemento e acciaio. Geniale e affascinante l'idea di rendere le mega strutture moderne delle grandi città americane parte di un grande rituale occulto. C'è tanta fascinazione nel libro per le opere di Clark Ashton Smith che tra l'altro potete trovare raccolta in un bellissimo volume di Oscar Vought e poi c'è quell'inquietudine, quell'ansia che permeano le pagine di Fritz Lieber che a molti ricorderanno gli orrori lovecraftiani. È stato davvero strano finire di leggere questo libro e un'ora dopo iniziare a vedere Archive 81, una serie su Netflix che ho scoperto avere delle inquietanti similitudini proprio con il romanzo di Lieber. Conosco Lieber da anni ma non avevo mai letto nulla della sua produzione horror, anche se in America è molto conosciuto per questa. E scoprire tante similitudini con un prodotto moderno, modernissimo, contemporaneo e un romanzo del 77 è stato davvero molto divertente. Questa versione del romanzo che vi ho fatto vedere e che credo che sia l'unica presente in Italia purtroppo non ha una grandissima traduzione però ha una bellissima copertina di Michael Whelan, un autore che ha ridefinito praticamente il concetto di copertina fantasy regalandoci cose bellissime come la sua raffigurazione di Eric D. Melimboné, il protagonista della saga fantasy di Moorcock. Comunque se non avete mai sentito parlare di Fritz Lieber e di Moorcock vi consiglio di continuare a seguire il canale perché la settimana prossima uscirà una gigantesca tier list di tutte le saghe fantasy che ho mai letto. Il primo fumetto invece che ho letto quest'anno e sono davvero felice che sia stato il primo è Imbattibile di Pascan Chocelin. È uno dei fumetti più geniali che io abbia mai letto ma soprattutto è un fumetto che sfrutta in maniere assolutamente inedite la gabbia su cui sono costruiti tutti i fumetti. Il potere del supereroe comico di Chocelin è proprio muoversi a piacimento attraverso la gabbia consapevole della struttura del fumetto riesce così a sfruttarne la sequenzialità per rompere il normale scorrere del tempo all'interno della tavola e tramutare la narrazione in metanarrazione. È affascinante come pagina dopo pagina Chocelin inventi nuovi modi per superare gli ostacoli della gabbia e trasformarli invece in una forza al servizio della sua narrazione. Vi assicuro che sarà una lettura divertentissima e che vi farà esplodere la testa. Il secondo romanzo che ho letto invece è Le Acque del Nord di Ian McGuire. Le Acque del Nord è il primo romanzo dello straordinario Ian McGuire. Una sorta di incrocio meraviglioso fra Moby Dick e Meridiano di Sangue di Cormac McCarthy. Dello splendido caporavoro di Melville ritroviamo le ambientazioni, le Acque del Nord, le baleniere, gli uomini sporchi di grasso, con le barbe congelate e gli erpioni pronti alla lotta. Mentre invece di Meridiano di Sangue troviamo tutta l'efferatezza dell'uomo. Il personaggio più straordinario, cattivo, sporco e inquietante è sicuramente Drax. Un uomo che non è soggetto alle leggi della nostra società ma che rispetta solamente la legge del più forte e lui è il più forte. Drax è un ramponiere sulla volontiere, un assassino, un pedofilo, uno stupratore. E gli si oppone la figura di Sumner che invece è un ex medico militare che ha lavorato nell'esercito di sua maestà in Inghilterra, anche se è irlandese, e che ora fa il medio di bordo proprio sulla volunteer, una nave inviata verso le acque del nord apparentemente per cacciare balene ma in realtà implicata in un piano per affondarla e riscuotere nell'assicurazione. Questo è il setting iniziale di un libro che svela i pozzi neri e i reconditi dell'animo degli esseri umani. È bellissima la lotta che mette in campo Maguire tra l'uomo e la natura e ogni volta che un essere umano viene a contatto con la bellezza fredda e glaciale del nord della natura incontaminata la corrompe e la distrugge con il suo animo nero. Infatti, sebbene il dottor Sumner si oppone alla violenza sconsiderata del ramponiere Drax anche nel suo passato si nascondono orrori indicibili. Dalle Acque del Nord è stata anche tratta una bellissima serie televisiva in cui il ruolo dell'orrendo Drax è stato affidato allo straordinario Colin Farrell. Vi consiglio assolutamente di leggere prima il libro e poi vedere la serie. Il secondo fumetto che ho letto questo mese è di uno dei miei autori americani preferiti Grant Morrison con la sua prima stagione di Lanterna Verde. Nel cartonato edito da Panini è raccolto tutto il primo anno che Morrison e Liam Sharp hanno dedicato al poliziotto spaziale della DC più famoso al mondo Al Jordan. Il segno di Liam Sharp aggiunge un ulteriore trucco vintage alle avventure che gli cuce addosso la scrittura di Grant Morrison. Nelle storie di Grant Morrison la Lanterna Verde Al Jordan ha a che fare con nemici assolutamente folli ci sono alieni che rapiscono interi pianeti e li vendono all'asta Al Jordan si ritroverà a fare retate antidroga e a essere soggetto agli effetti di droghe allucinogene aliene Morrison recupera così lo spirito più poliziesco della serie Lanterna Verde regalandoci un perfetto connubio tra un'estetica e una narrativa di fantascienza retro e con un super poliziesco costellato da interrogatori retate e anche agenti sotto copertura se non conoscete le storie di Grant Morrison e di Lanterna Verde forse non è l'entry point più facile per iniziare a leggere l'autore e il personaggio è invece tutto italiano il talento di Donato Carrisi non avevo mai letto il primo romanzo di Carrisi il suggeritore e devo dire che è stato una straordinaria sorpresa è una classica storia di serial killer un gruppo specializzato di agenti che dalla caccia ha un terribile criminale che gli ha fatto trovare le braccia tagliate di altrettante bambine scomparse gli arti orribilmente mutilati però sono solamente la prima tappa di un percorso che scende giù verso l'inferno per la squadra speciale e Goran Gavila l'esperto a capo del gruppo è incaricato di ritrovare le bambine e scoprire chi è quest'uomo che si muove dietro le quinte di questo orrore forse non è il romanzo più perfetto scritto da Carrisi però il ritmo assolutamente inarrestabile e il susseguirsi di una serie infinita di colpi di scena lo rende un romanzo davvero molto affascinante se vi piacciono Seven e Il silenzio degli innocenti è una lettura che dovete assolutamente fare il tomo che ho qui in mano le più di mille pagine di fumetto raccolgono tutta la run che Tomasi e Glaison hanno realizzato per Batman e Robin non c'è dubbio che il Robin più affascinante è mai accostato al pipistrello è proprio il figlio di Bruce Wayne Damian Wayne il rapporto difficilissimo tra un padre che ha conosciuto solamente la violenza della lotta contro il crimine e un figlio che è stato cresciuto da una lega degli assassini da una madre decisamente molto fredda e calcolatrice e che è stato scaraventato in un mondo in cui la sua morale corrotta non può funzionare sono gli elementi cardine su cui Tomasi costruisce il rapporto padre figlio di una delle coppie di supereroi più bella di sempre in questa raccolta ci sono pagine commoventissime azione straordinaria e la capacità di creare splash page ed effetto di Glaison richiudono tutto in uno splendido fiocco per un regalo eccezionale per gli amanti del genere supereroistico e soprattutto del pipistrello l'ultimo romanzo che ho letto a gennaio è Il gioco della notte di Camilla Lackberg conoscevo solamente di vista perché le sue opere affollano gli scaffali delle librerie italiane Camilla Lackberg questo è il primissimo romanzo che leggo dell'audrice svedese e devo dire che è stato un gran bell'inizio nel gioco della notte Camilla Lackberg fonda la sua narrazione sull'unità di tempo e di luogo infatti tutta la storia è ambientata nella stessa casa e nello stesso giorno il giorno è il giorno di Capodanno e la casa è una splendida villa sul mare che appartiene ad una delle famiglie più ricche del paese all'interno della villa quattro ragazzi della stessa età che sono cresciuti insieme e che sono belli ricchissimi e apparentemente senza nessun problema la verità però è molto molto più oscura ognuno di loro nasconde un segreto inconfessabile e più va avanti la serata più i quattro bevono e più questi segreti finora inconfessati iniziano a uscire fuori lo spazio è molto importante per la narrazione infatti i nostri quattro giovani sono in grado per tutto il tempo di osservare attraverso le finestre della casa la villa subito di fronte in cui proprio i loro genitori stanno passando il Capodanno insieme quei pochi metri di distanza fisica che divide una villa dall'altra però non corrispondono al vuoto siderale che allontana una generazione dall'altra il gioco della notte è un romanzo breve ma assolutamente perfetto nella sua costruzione assolutamente consigliato se vi piacciono storie nere e inquietanti che raccontano proprio il rapporto tra genitori e figli l'ultimo fumetto di cui vi parlo invece è Strange Adventure e giuro che se quest'anno riuscirò a leggere qualcosa di meglio sarò davvero molto felice e anche molto sorpreso perché Strange Adventure è uno dei migliori fumetti in assoluto che abbia mai letto Tom King continua a collaborare con Mitch Gerald dopo lo strabiliante Mr. Miracle e l'affascinante Sheriff of Babylon e insieme a Doc Shaner per ricostruire l'identità di uno degli eroi più vintage e misconosciuti dell'universo DC Adam Strange Adam Strange è il classico eroe dei due mondi il classico eroe da fantascienza vintage dotato di una pistola laser e di un jetpack si ritrova per uno strano fenomeno fisico trasportato su un altro pianeta Ran in cui si sta combattendo una guerra terribile degli invasori cercano di conquistare il pianeta e proprio grazie ad Adam Strange Ran riesce a resistere e a rinascere e addirittura finisce per sposare la principessa di Ran e avere una figlia con lei ma il costo che dovrà pagare l'eroe terrestre è ingente infatti la figlia morirà proprio durante quegli scontri ritornato sulla terra racconta la sua storia attraverso una biografia e proprio durante una sessione di firme in una libreria un uomo gli si avvicina e lo accusa di non essere l'eroe che dice ma di essere un terrificante criminale di guerra da questo momento in poi Tom King si diverte a smontare pezzo per pezzo l'epica eroica dei supereroi di Sea e in particolare di quest'uomo che è un eroe di guerra ma esistono davvero degli eroi quando viene combattuta una guerra in cui muoiono centinaia e migliaia di persone si può davvero mantenere la propria morale durante un terribile conflitto? la risposta verrà data dall'investigazione che verrà fatta proprio su Strange per cercare una verità che lo scagioni o che lo accusi ma che in realtà si rivelerà molto più complessa e stratificata e difficile da accettare per tutte le parti chiamate in causa Tom King riesce a dosare perfettamente le parti più fantascientifiche e d'avventura con un racconto invece che investiga la morale della guerra e la disumanità della guerra se non avevate mai letto nulla di Tom King sicuramente è un ottimo modo per iniziare ma non dovete assolutamente fermarvi solo ad Adam Strange perché attualmente Tom King secondo chi vi parla è l'autore americano più interessante in assoluto nel panorama delle major con questo si conclude il wrap up di questo primo mese dell'anno queste erano le mie letture del mese di gennaio voi invece cosa avete letto? avete qualcosa da consigliarmi? fatelo nei commenti qua sotto se volete continuare a seguire questa e altre rubriche vi ricordo di iscrivervi e attivare le notifiche spero che questo video vi sia piaciuto come vi avevo già anticipato la prossima settimana facciamo una mega super tier list di tutte le saghe fantasy che ho mai letto e mi sono accorto che sono davvero un sacco spero di vedervi al prossimo video ciao ciao